Ciao bambini, benvenuti! Oggi facciamo un nuovo video su Jurassic World! E quello vedo che c'è un pupazzo, che cos'è quello a fare lì? E' un dilofosauro! E' un dilofosauro e poi ci sono! Che cos'è questo? Questo è un velocità. E quello lì dietro? Questo? Sì! Un K-Rex! E questo qui? Quello? Sì! E' un dilofosauro! E questo? Questo è un indolomus flash! Ah, benissimo! Quindi parliamo... Eh sì, hai detto tu bene, Jurassic World! Fai vedere bene quello di dilofosauro perché non si vede la faccia! Si vedono tutti i ventagli girati! Vai, vabbè, dai, procedi con l'unboxing! Aprilo, aprilo, aprilo! Non c'è niente da vedere dietro tanto! Che cosa fa questo? Farà dei suoni, giusto? Sì! Spara il veleno anche! Dai, dai, aprilo, aprilo! Ecco, eh! Vai, aprilo! Ecco qui! Oh, papà, il veleno! Il veleno! Il veleno! Lo prendo io? Lo vengo io! Eccolo! Aspetta, che ti aiuto ad aprirlo un pezzettino! Vai! Vieni un po', se riesci! Tanto, vediamo le istruzioni che c'è dentro, se c'è qualcosa di interessante! No, le solite cose, niente, istruzioni sotto i bambini di tre anni, ci sono... Eccolo qua! Aiuto! Vediamo cosa spiegano! Ecco qua! Come hai fatto? Eccolo! Aiuto! Premi la coda e parte il veleno, ci sono due batterie a bottone con la vite! Niente di che, via! Questo, un, due, tre, non fa niente, lo possiamo buttare! Oh, l'hai già tirato! Come hai fatto? Spiega, 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 facci rivedere! Oh, la seconda cosa è... Quindi, praticamente, fai vedere bene i bambini, se no non si capisce! Metti dentro il veleno nella bocca del dilofosauro, giusto? Sì! Poi? Mico, non la bocca è in gioco bene, se vede! Riprova! Metti la bocca del dilofosauro! Per bene! Ok, poi... Tiri giù la coda e... Non la bocca è in gioco, ma non è partito! Posso provare? Fammi vedere! Sì, ma... Tiri giù la coda! Aspetta, ecco, così... Eccolo, riproviamo, dai! Adesso abbiamo capito, bisogna inserirlo bene finché non fa clac! Riprendi il veleno, così lo facciamo vedere bene i bimbi! Allora, bimbi, si fa così! Prendi, metti dentro! Per bene, facciamo... Leva la mano davanti, se no non si capisce! Mettiamo bene la... Avete sentito questo clac? Forse non si è sentito, però... Poi, si prende la coda! Lorenzo, dall'altra parte, mettiti, se no con il braccio non facciamo vedere niente ai bimbi! Si prende la coda! Si tira verso il basso... E parte come un razzo! Avete visto? Andate, facciamolo vedere bene com'è fatto! Mamma mia, che faccia cattiva che ha questo dilofosauro! Ma il dilofosauro, in realtà, sparava veleno o no? Forse no! Forse sì, forse no, non si capisce! Un'invenzione un po' del parco, è un errore cinematografico, ma... Noi non gli interessa! I ventagli non ce l'aveva! I ventagli non ce l'aveva, questa è proprio un'invenzione! Però guardate quanto è bello, vero? Sembra un po' una farfalla! Ma questo, allora... Vedete, quindi, allora, si può fare... Si muovono i ventagli, poi c'è un pulsantino qui che si prema, fa il rumore e diventa rosso. Poi fa anche il rumore qui, si tira la coda, si abbassa la coda, una specie di ruggito e spara il veleno! Eccolo qua! Gli faccio farne l'occa, veloci raccolare a questo, guarda! Puoi togliere le forbici da mezzo, dammi! Sì! Lui coperì in bocca! C'è un sparo veloci raccol! Crack! Crack! Che è successo? Non lo so! Non mai si è spavolato! Oh oh! Mi scassò il macego, ma reggi il vero di l'acqua, per favore! Aspetta, lo basso! Ecco! È stato colpito! Vediamo se adesso è anche l'anchilosauro! Con la sua potenza! E la sua coda fortissima! Come si fa a muovere la coda? Non si sa! Con questa zampa! No! Vengiamo! Vai! Vediamo se anche lui sarà colpito dal veleno del dilophosauro! E' stato avvelenato! E' stato avvelenato! Vediamo il fantastico ed enorme Indominus Rex! Non vi è avvelenato mai con il colpo! Ma come si spugge al veleno del dilophosauro! Ah, mio Dio lo salvo! Pronto? Aspetta! Non si spugge al veleno! Oh, non fai il hack? Ecco! Ecco! Manca il dilophosauro! Eccolo là, il T-Rex! Grazie! Ma è possibile che è così forte un dilophosauro che avvelena tutti quanti? Che dici? E' possibile? Una strage di dinosauri è successo qui! Vediamo il T-Rex! Faccio liscio, papà! Hai fatto liscio! Riprova! Pronto? Aspetta! Dimmi tu, eh! Pronti! Via! Hai preso sulla gamba! Anzi, la zampa! E adesso tutti incontrano il dilophosauro! Aspetta, eh! Anche ilosauro! Velocirattol! Velocirattol con un pelacchio sulla bocca! Poi c'è il T-Rex! Aspetta che... Ai, che botta che mi sono dato da solo! T-Rex! Che si regge? Sì! E' Indominus Rex! Tutti contro il dilophosauro! Vai! Via, vai ormai! Via! Vediamo un po'! Ah! Uno sì! Ah! Ah! Che prendo! Ah! 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 LISCIO! super codata hai vinto no è stato sconfitto anche veloce rapta ciao bambini figlio e figlio e chiudetemi gli occhi che adesso spaventeremo oh no